C'è pure uno strumento musicale, un organo tra gli ingombranti abbandonati lungo il sentiero che si trova nei pressi della strada dei Difali e vicino al centro di Sant'Anna a Monterice, assieme a divani, mobili e altro materiale che ieri è stato intanto portato in un punto vicino alla carreggiata per essere caricato e portato in discarica in modo da essere smaltito così come previsto dalla legge. Intanto ieri mattina gli agenti della forestale del distaccamento di Erice hanno fatto un sopralluogo nella zona assieme ai carabinieri e all'assessore Paolo Genco che ha assicurato che l'area sarà presto ripulita. In questo sito così come in altri siti intanto ci sono delle indagini in corso, l'area verrà ripulita, adesso abbiamo chiamato anche il responsabile di Econordo che manderà gli operatori per la bonifica di quest'area. Ma noi di bonifica ne facciamo puntualmente una settimana in modo particolare su San Giuliano, su Pizzolungo e su tutto il resto del territorio. La forestale era comunque a conoscenza della situazione come tenuta a precisare dagli agenti dell'istaccamento di Erice. Nella zona erano stati infatti avviati degli accertamenti per la presenza di rifiuti come il pianoforte, il divano, vecchi mobili abbandonati e quant'altro. Tutto lasciato lungo il sentiero che dal santuario arriva fino alla strada dei Difali. Intanto l'assessore Genco ha annunciato che presto arriveranno altre telecamere a contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Abbiamo avuto un finanziamento dal Ministero degli Interni di 150 mila euro dove a breve, che è stato fatto l'avviso, a breve verranno installate alcune telecamere, altre verranno installate perché sono inserite in un contesto di project financing e quindi verranno installate sul territorio. Complessivamente ci saranno 100 telecamere. Al momento utilizziamo delle telecamere mobili dove parecchi trasgressori sono stati individuati e già i vigili urbani si sono attivati per la procedura. E con la nuova normativa le sanzioni per l'abbandono dei rifiuti sono state inasprite. Adesso con una nuova normativa si va sul penale, l'ammenda va dalle 2.500 euro alle 10.000 euro, quindi credo che il cittadino che abbandona anche il semplice sacchetto di rifiuti deve stare attento a cosa va incontro.